Review di Larsen e Nartey, partiamo ragazzi, sono due giocatori gratis, quindi dovete farli proprio a prescindere, partiamo da Larsen, un bel giocatore con tanta velocità, un buon tiro, un buon passaggio e dribbling e può ricoprire tanti ruoli, può fare AS, ES e anche ATT, quindi se avete una Bundes ve lo consiglio, anche 4 di debole, un po' meno le mosse abilità che a 3, però è un buon giocatore, ve lo consiglio, fatelo. E andiamo poi a vedere Nartey che sembra molto il Duncan di ieri come carta, una carta bella equilibrata che può secondo me fare molto il CDC, cioè il suo ruolo secondo me è il CDC, bello fisico, ha anche una buona difesa, ottimo dribbling, ottimo passaggio, peccato un po' il tiro con 70 e velocità 83, davvero una carta molto equilibrata e ve lo riconsiglio.